Servirà ancora qualche ora prima di capire il verdetto. I lavori del Consiglio di Stato sono cominciati solo dopo le 13 e c'è attesa per comprendere l'effetto che farà il ricorso presentato dal Foggia assistito dagli avvocati Sgobba e Lofoco e nell'occasione accompagnato dalla provincia di Foggia rappresentata dal legale Vincenzo De Michele. Decisione attesa solo nella serata quando dovrebbe essere reso noto il dispositivo. Sono ore di grande attesa per il club e per il popolo rosso-nero in generale. Quella di oggi è una giornata spartiacque a margine della quale si capirà se il Foggia potrà ancora inseguire il sogno di ripescaggio in Serie B o meno. Il club rosso-nero alla pari del Perugia chiede l'annullamento della sentenza del Tarlazio che a sorpresa riabilitò qualche settimana fa il lecco. Dunque momenti di attesa ma anche di grande tensione con diversa gente assiepata all'esterno del palazzo che ospita il Consiglio di Stato come mostrano le immagini girate sul posto. La decisione che verrà fuori inevitabilmente orienterà anche gli ultimi giorni di calciomercato. Il Foggia sembra essere intanto ai dettagli per il difensore Luigi Carillo. 27enne l'anno scorso, 31 presenze ed un gol col Novara. Si tratta di un centrale con tanta esperienza in Serie C, dove ha vestito anche le casacche di Messina, Casertana, San Benedettese, Pisa, Paganese, Acragas e Juve Stabia. Carillo ha giocato peraltro anche in B proprio con gli Stabiesi e col Catania.